La Combottente, un'associazione di nome e di fatto da cento anni presente nella città di Fano con tutte le sue attività. All'inizio una bocciofila, ora una polisportiva con tante tante iniziative. E proprio questo anniversario verrà festeggiato con grande rilievo domenica prossima. Presidente Gasparelli, che cosa ci aspetta domenica prossima? Domenica è prevista, organizzata in questo modo. Al mattino alle nove ci sarà una funzione religiosa, la messa, dove verranno date anche delle palme benedette. Dopodiché alle ore nove ci spostiamo alla sala di rappresentanza della Fondazione di Cassa di Risparmio, che ci ha concesso molto gentilmente, dove ci sarà una conferenza, una tavola rotonda, con la presenza di autorità nel mondo sportivo e non solo. Sempre nella nostra sede ci sposteremo per le ore 13, per il pranzo, dove avremo anche la fortuna di avere con noi il Vescovo di Fano. Ecco, lei ha menzionato diversi sport oltre alle bocce e quindi la combattente si è allargata anche da altre attività. Sì, io lo ritengo necessario, perché dobbiamo proporci in più tipi di attività sportive, perché il mondo delle bocce è un mondo che non ha un grosso rinnovamento. È vero che noi abbiamo parecchi giocatori, abbiamo anche dei ragazzi diversamente abili, però dobbiamo anche proporci, i costi sono talmente elevati per la nostra struttura che non è sufficiente solo con lo sport delle bocce. Dobbiamo proporci anche per altre attività. Il mondo degli scacchi, che è in forte crescita, in crescita incredibile. Ci sono ragazzi delle scuole elementari addirittura che partecipano, persone di tutta l'età. Voglio dire, noi abbiamo organizzato le gare, si vedono degli scontri tra ragazzini delle scuole che hanno appena superato la quinta elementare con delle persone con i capelli bianchi e quindi è una cosa veramente straordinaria. E in più abbiamo anche una squadra quest'anno di biliardo bowling, siamo iscritti regolarmente alla federazione biliardo e partecipiamo al campionato regionale in Ancona nella categoria B. Non solo sport, perché la struttura della combattente è una struttura aperta anche alla società, alla cultura di fan. Debo ringraziare chi ha avuto la lungimiranza di costruire una struttura così grande. E oggi questa struttura è a disposizione della comunità, è a disposizione delle associazioni, è a disposizione per tanti eventi. Ma la città potrebbe fare anche qualcosa per voi? Che cosa chiedete? Certo che questa struttura per essere utilizzata e voglio dire partecipata da tutti ha bisogno o per essere utilizzata per certi eventi ha bisogno delle migliorie, ha bisogno dei lavori, ha bisogno della manutenzione, ha bisogno per salire nella sala superiore di un montacarichi per dare la possibilità ai diversamente abili per poter aderire, per poter frequentare. Abbiamo bisogno di un impianto fonico che sia migliore di quello che abbiamo adesso, abbiamo bisogno che qualcuno ci dia una mano perché questa struttura debba essere utilizzata dalla comunità.